Gli ho insegnato io quel trucchetto, sai? E' proprio un bravo ragazzo nel Nerio Voi siete dei mostri Dei mostri sanguinari Sara, da te un commento del genere non me lo sarei mai aspettato E' da razzista credere che tutti i vampiri discendono dalla stirpe di Vlad Quella è una delle tante, magari la più sopravvalutata Ma noi siamo una stirpe antica No, no, Nerio Nerio, fermati! Che puzza di cane Sta soffrendo, poveretta Sì Forse dovremmo bercela Cosa vuoi dire? Che ti ho fatto soffrire per troppo tempo Tecitino te lo meriti? Hai accettato di diventare vantito a metà Andando contro la tua natura E l'hai fatto solo per me E' un gesto bellissimo Accetta questo dono Certo è una vecchietta Dovrei accontentarti? E' un piccolo risarcimento per i 60 anni di sanguinacci E' vecchia rumena annacquata Ma sei sicuro? Oh, non vorrei adottare anche la vecchina Ma basta! E anche la orta è mia Senti, facciamo pausa Sto perdendo tutte Va bene Te Grazie Ma Nerio non torna Ah già, è vero Che fine ha fatto? Sai che ti dico? Ah Il detto Chi va via? Eh? Per del posto all'osteria No, caro Non pensarci neanche Sara Sara, resta qui Sara, non te ne è andato Eh? Non so Puoi fotografarci mentre dormiamo a testa in giù E fare uno di quei tuoi Com'è che si chiama? Un post Un post, sì Ti va? Possiamo fare tante cose insieme Ma tu mi piaci molto ma Sono successe troppe cose Io Io non riesco più a vederti come prima Hai ucciso Dragan davanti ai miei occhi No, ma è lui che voleva uccidere noi Sì, lo so ma E ti ringrazio di avermi salvato la vita ma È troppo Io Mi spiace Chiffra Ma non c'ai questo Che è una strada Che è una strada La strada Ma non c'è L'hò Ma non c'è ciao ragazze volevo farvi vedere una cosa che ho ricevuto oggi direttamente dalla Corea le istruzioni però sono in coreano non ci capisco niente comunque io direi che possiamo provarle insieme vero? ecco qua allora aspettiamo 10 minuti che faccia il suo affetto sono passati 10 minuti un attimo rimanete lì eh ma mi sento strana ma mi ha truccato e mi ha anche pettinata sì che devo dire ragazze funziona davvero questa maschera ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.